Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la campagna elettorale perché mancano pochi giorni alle elezioni e molti tra i leader nazionali sono attesi in Molise. Dopo Tajani per Forza Italia e per il centrodestra torna in Molise Salvini insieme con i ministri leghisti per il centrosinistra. Invece in regione è arrivato l'ex ministro Speranza, sempre per i progressisti, sono poi attesi Conte, Schlein, Bonaccini e Bersani e c'è il pressing nel centrodestra per avere in Molise Giorgia Meloni e in arrivo infine Antonio Ingroia per sostenere la lista. Io non voto i soliti noti ma ci dice tutto il programma in apertura Pasquale Di Bello. Aria da fine campagna elettorale in Molise, sfilano i leader nazionali in queste ore e altri sono attesi nei prossimi giorni. Dopo le presenze del ministro della salute Orazio Schillaci e Antonio Tajani giunti in Molise a sostenere la candidatura a presidente per il centrodestra di Francesco Roberti proseguono le manifestazioni e le iniziative a sostegno dei candidati. Oggi pomeriggio l'ex ministro della salute Roberto Speranza è stato alla Galleria d'Arte Petrecca, Isernia a sostegno del candidato Roberto Gravina e del centrosinistra. Insieme a lui anche l'ex segretario di articolo 1 partito confluito nel PD Francesco Totaro. Alle 20 e 30 a Campobasso la Lega insieme al segretario nazionale vicepremiere ministro delle infrastrutture Matteo Salvini altri tre ministri leghisti, quello dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, quello dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara e quella per le disabilità Alessandra Locatelli. Martedì alle 13 a Termoli presso la sede del candidato Roberti ci sarà l'ex ministro Carlo Giovanardi sempre martedì in Molise, l'ex magistrato Antonio Ingroia a sostegno di Emilio Izzo e della lista Io non voto i soliti noti. Appuntamento a Campobasso alle 16.30 allo spazio sfuso e successivamente alle 18.30 a Isernia in piazza stazione. Mercoledì sono invece 4 gli appuntamenti per l'ex ministro e segretario nazionale del PD Pierluigi Bersani, Termoli alle 17, San Martino in Pensilis alle 18, Campobasso alle 20 per poi concludere ad Agnone alle 22.00. Sempre mercoledì alle ore 19 a Isernia al bar centrale per il partito democratico ci sarà invece il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Questa la cronologia dei prossimi appuntamenti sulla quale si innesteranno gli arrivi in Molise entrambi a sostegno di Gravina e del centro-sinistra di Giuseppe Conte ed Elislein. Il capo politico del Movimento 5 Stelle sarà in regione per ben tre giorni. Le ipotesi sono due da martedì a giovedì oppure da mercoledì a venerdì. Per la segretaria invece del PD le date dovrebbero essere quelle di giovedì e venerdì. In forse per il centro-destra l'arrivo del capo del governo Giorgia Meloni a causa di un'agenda fitta di impegni nazionali ed internazionali sulla Premier tuttavia c'è da registrare il pressing dei parlamentari nazionali e degli esponenti locali per una sua presenza in Molise. E come si diceva in apertura l'ex ministro della salute Roberto Speranza è intervenuto a Isernia per sostenere il candidato del centro-sinistra Roberto Gravina. Speranza ha ribadito la necessità di reperire fondi per la sanità del Molise e delle regioni più piccole. Bisogna evitare, ha detto che a pagare per le carenze sia sempre il Sud. Lo ha intervistato per noi Valeria Migliore. È la sanità il tema caldo di questa tornata elettorale in Molise. Una battaglia politica a viso aperto. Quella che l'ex ministro Roberto Speranza ha detto di voler portare avanti per le regioni più piccole nel corso di un incontro a Isernia dove è venuto per sostenere la candidatura di Roberto Gravina. Dopo un breve ringraziamento a Enlischlein che lo ha riaccolto nel PD, Speranza ha aperto il dibattito sulla sanità pubblica insieme a Francesco Totaro e Antonietta Renzi con i quali ha detto di avere un rapporto di amicizia prima di un comune ideale politico. Per l'ex ministro della salute il Molise è una regione importante nel panorama della politica nazionale ed è una cartina tornasole delle numerose carenze sociosanitarie in cui versa il paese che si ripercuotono con maggiore forza e inevitabilmente sulle realtà più fragili. Bisogna reperire risorse per evitare che a pagare sia sempre il mezzogiorno, ha detto, perché di fronte al diritto alla salute non possono esistere differenze economiche. Ma guardi, i problemi di Isernia sono i problemi di larga parte delle realtà del sud e per me il nodo fondamentale sono le risorse. Se tu metti meno risorse ci sono territori forti che hanno autonomia fiscale finanziaria e che potranno finanziare autonomamente i servizi che le persone aspettano. Se invece i soldi non arrivano nelle regioni fragili mancano i servizi e quindi aumentano le diseguaglianze. Quindi il problema di Isernia, il problema del Molise, il problema delle altre regioni, io penso in modo particolare del mezzogiorno, non è un problema di un territorio ma è un grande problema nazionale. Speranza ha poi affrontato un altro tasto dolente per il Molise, i bandi dell'Asrem che puntualmente vanno deserti e che peggiorano la già critica carenza di medici. Questo è un altro grande tema, però io penso che anche qui il tema dei medici, del numero di medici, negli ultimi due anni in cui io sono stato ministro ho finanziato oltre 30.000 borse di specializzazione. Per darle un dato, nell'ultimo anno 17.400 borse, il triplo di tre anni prima e il doppio di due anni prima. Oggi finalmente ci sono queste borse, abbiamo bisogno che queste borse abbiano una ricaduta poi sui territori. Più difficile farlo in maniera miracolistica in pochi mesi, però con la programmazione che abbiamo avviato io penso che nel giro di qualche anno l'onda più difficile l'avremo superata e si creerà una situazione differente. E questo è un altro grande tema, il tema del personale, però le borse finalmente sono state finanziate e bisognerà continuare a finanziarle anche nei prossimi anni. Cambiamo argomento. Maria Concetta Chimisso, coordinatrice del Circolo Cittadino di Termoli e vice segretario regionale del Partito Democratico, si è dimessa da ogni carica. Alla base della decisione, la mancata condivisione delle recenti iniziative della segretaria Ellie Schlein, una decisione che fa discutere e molto a pochi giorni dal voto e sentiamo ancora Pasquale Di Bello. L'abbraccio tra Ellie Schlein e Giuseppe Conte e le brigate cittadine di Beppe Grillo con tanto di passamontagna hanno prodotto un'onda lunga che è arrivata anche in Molise e che è destinata a lasciare un segno. A dimettersi in dissenso col partito è stata, con una nota stringata, Maria Concetta Chimisso, coordinatrice del Circolo Cittadino di Termoli e vice segretaria regionale. A parlare non è tanto la nota dell'interessata, poche righe, ma le voci interne al partito che riferiscono di una diversità di vedute che da tempo ha allontanato la Chimisso dalla segreteria regionale, fattore al quale si è aggiunta adesso la presa di posizione nei confronti della segretaria Schlein. La presenza della segretaria alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle contro la precarietà ha sollevato malumori nel PD e soprattutto ha fatto sollevare un muro interno costruito dalle opposizioni. La segretaria ha replicato non mi farò ingabbiare ma la sua presenza tra i 5 Stelle è stata letta come un gesto di subalternità politica e di poca chiarezza viste le posizioni dei pentastellati sulla guerra in Ucraina. Poi le dichiarazioni di Grillo che più che la goccia sono un vaso che ha fatto traboccare altri vasi che lasciano cocci e macerie. Nel PD nessuno ha digerito i richiami a Brigate Passamontagna, un riferimento giudicato da molti fuori luogo anche se indirizzato ad un impegno civile per i cittadini. La Chimisso quindi sbatte la porta e se ne va a pochi giorni dalle elezioni regionali. L'accredito è fatto al proprietario. Intanto nel giorno programmato per l'inaugurazione della sede elettorale di Emilio Izzo a Isernia alcune tegole sarebbero cadute dal tetto del museo di Santa Maria delle Monache impedendo lo svolgimento dell'evento stesso. Una strana coincidenza ha detto l'aspirante governatore nel corso di una conferenza stampa davanti alla sede. Sentiamo ancora Valeria Migliore. Alcune tegole pericolanti sul tetto del museo di Santa Maria delle Monache a Isernia hanno impedito al candidato Emilio Izzo in corsa per la presidenza della regione di inaugurare la propria sede elettorale. L'area nel centro storico di Isernia è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco mentre il comune ha chiuso al traffico sia per i pedoni che per le auto un tratto di corso Marcelli nel quale si trova anche la sede di Izzo. In un incontro con la stampa l'aspirante governatore ha voluto sollevare alcuni dubbi sulla vicenda. Che significa che le persone che abitano qui non possono accedere alle proprie abitazioni e quindi la domanda è ma qualcuno li ha sfollati? Ok detto questo vorrei capire una cosa ma questo tetto è stato mai sottoposto a revisione perché da quello che mi risulta anni fa io lasciai questa struttura che era perfetta poi l'hanno chiusa per otto anni hanno speso una montagna di euro per farci lavori dentro e non si sono preoccupati della sicurezza e questo è il problema siamo certi che qua sopra le tecole sono cadute o qualcuno non le ha fatte cadere perché qua ormai ci chiediamo di tutto in questa realtà. Sta di fatto che c'è la nostra sede non possiamo accedere né per inaugurarla e né per prendere le nostre cose. Sarà una coincidenza forse troppe. E intanto Izzo chiede anche riscontro all'amministrazione comunale due assessori ha detto non hanno saputo rispondere sulle ragioni della chiusura della strada. Due assessori interpellati non sapevano assolutamente niente il terzo non ha risposto il sindaco non si sa. C'è una formazione politica che è candidata in questa tornata elettorale c'è un candidato presidente c'è una struttura che riceve le mail noi da tutti quelli che conosciamo non abbiamo avuto una comunicazione che diceva che non c'era accesso alla nostra sede. Allora questo hanno sicuramente il resto potrà essere anche coincidenza diciamo ma qui proprio coincidenza non ce n'è. Intanto lettera aperta ai tre candidati presidenti da parte del sindacato Wilpa Anas nella quale sono individuate le emergenze da affrontare. L'auspicato sviluppo infrastrutturale della regione si legge in una nota non può prescindere dall'utilizzo efficace delle risorse derivanti dalle tante linee di finanziamento in fase di esecuzione e di prossima attuazione richiamando anche le risorse del PNRR e della programmazione dei fondi europei 2021-2027. È un'occasione unica per consentire alla regione di dotarsi di collegamenti stradali di assoluta necessità che oltre alla realizzazione della tanto attesa quattro corsie il collegamento veloce tra le autostrade a 1 a 14 vede anche il completamento di opere rimaste incompiute. In primis la fresilia sono solo alcune delle priorità individuate dal sindacato di categoria della Wil. Intanto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto di sostegno ai piccoli comuni per il pagamento dei tecnici coinvolti nei progetti proprio del PNRR. Si tratta detto il presidente di Anci Molise Pompilio Sciulli di una misura che consente ai sindaci di assumere personale per lavorare al meglio sui nuovi bandi. Ci dice tutto Enrico De Simone. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che prevede misure a sostegno dei comuni fino ai 5.000 abitanti. Si tratta di contributi per il pagamento dei tecnici coinvolti nei progetti del PNRR. Nazionale di Ripresa e Resilienza come spiega il presidente dell'Anci Molise Pompilio Sciulli. I comuni sotto i 5.000 abitanti rappresentano il 90% dei comuni molisani. Con questa possibilità che è stata inserita nei fondi del PNRR i comuni sindaci appunto hanno la possibilità di prendere tecnici comunali e all'interno dei fondi del PNRR poterli pagare. Ciò significa che con questi tecnici loro possono far fronte anche alle scadenze del PNRR che attualmente ricordo parliamo del 2026 e non saranno prorocate queste scadenze perché sono soldi che dopo l'Italia deve rendicontare all'Europa. Quindi i sindaci hanno bisogno di queste persone, di questi tecnici proprio per far fronte a quelle che sono le necessità tecniche ed amministrative all'interno del Comune. Nel decreto anche contributi per il pagamento dei segretari comunali. I segretari comunali praticamente sappiamo i costi, nessun comune si può permettere un segretario comunale soltanto per il proprio comune se non ripartirlo con oneri tra più comuni con convenzioni. All'interno del PNRR c'è anche la possibilità di prendere, di prevedere una quota anche perché tra i vari adembimenti molti sono amministrativi quindi i comuni necessitano anche di questa figura professionale. Il PNRR spiega Sciulli è un'opportunità da non perdere. Chiedo ai sindaci, aggiunge il presidente di Anci Molise, di avere lungimiranza. C'è un invito a disindaci ad essere un pochino lungimiranti, a non far, a non realizzare la classica cattedrale nel deserto se dopo non si sa neanche come poterla gestire, ma sono fondi che in qualche modo devono avere una visione, devono avere una prospettiva di sviluppo, ecco magari sapendo coinvolgere anche il privato, creare una sorta di società pubblico-privata in modo che questi fondi vengano sfruttati al meglio. Il Comune di Campobasso ha avviato la procedura per l'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'ex mattatoio di Piazzale Palatucci, intervento finanziato con fondi ministeriali del PNRR e con fondi del bilancio comunale 2023 per un totale di 3 milioni di euro. Il progetto prevede la ristrutturazione dell'immobile per adibirlo a biblioteca, auditorium e sala conferenze. Sarà inoltre recuperata anche l'area antistante l'edificio con una parte verde e verranno realizzate una nuova pavimentazione e una nuova illuminazione. E ora andiamo a Termoli perché è stata intitolata all'eroe Giorgio Castriota-Scandenberg la scalinata tra il Corso e Via Roma. L'iniziativa ha voluto sottolineare i rapporti di ieri e di oggi tra le due sponde dell'Adriatico presenti all'evento i quattro sindaci delle comunità Arbrecht in Basso Molise. C'era per noi Andrea Nasillo. Le due sponde dell'Adriatico, sempre più unite nel segno delle origini, della cultura e delle tradizioni, le popolazioni Arbrecht in Molise con orgoglio rivendicano le radici. Alla Casa Museo Stefanus in Piazza Duomo la cerimonia di intitolazione della scalinata di Via Roma all'eroe albanese Giorgio Castriota-Scandenberg, definito difensore dell'Europa cristiana e per tale motivo ricordato in Italia, Albania ed altre capitali europee. L'intitolazione è stata deliberata già dal comune di Termoli il 29 dicembre 2021 su richiesta presentata da due associazioni del territorio, la Camastra in rappresentanza delle popolazioni albanofone della città e dei paesi del circondario e dall'associazione Agimi che accoglie cittadini residenti a Termoli e nel territorio provenienti dalla moderna Albania. All'evento anche l'ambasciatrice albanese Anila Bitri. Commemoriamo, festeggiamo, celebriamo tutti un eroe, una figura che rappresenta uno dei pilastri della cultura, della cultura europea, i valori della libertà e poi di una cultura unica che è quella che si basa sulla solidarietà, il supporto e il sostegno dell'uno all'altro. Sulla scalinata viene posta l'opera grafica ideata dai presidenti delle associazioni promotrici Maria Rossalia D'Angelo e Fatmir Beoluli su testi di Fernanda Pugliese e realizzata dall'artista Carla Di Pardo, soddisfatti i sindaci di Paysier Bresch del Basso Molise. Portano avanti come lo stiamo facendo noi le tradizioni al Bresch e culturali e mirano principalmente sulla lingua, è quello che noi già stiamo facendo dal 1999 con la legge 442 che è stata istituita dal governo e dalle comunità al Bresch per portare avanti proprio la lingua al Bresch. Incontri come questi, convegni come questo ci riportano a quelle che sono le nostre origini e quando le valorizziamo, le tuteliamo, per noi ovviamente è sempre un grande piacere, un grande onore e ringraziamo ovviamente le associazioni che hanno consentito un evento del genere un evento che rende onore a Skanderberg, questo grande eroe, questo grande condottiero che ci ha portato, che ha portato il popolo albanese qui in Italia. Penso che i tempi siano maturi di portare l'insegnamento della lingua albanese all'interno delle scuole perché se non andiamo a veicolare questa lingua sui ragazzi che sono nel nostro futuro, prima o poi la andremo a perdere, sicuramente è un peccato questo. Termone ha fatto una cosa bellissima, poi suggerita anche dalla presenza di sua eccellenza l'ambasciatore in Italia del governo albanese e che ha detto delle cose importantissime, cioè quello che è il progetto di riconoscere la doppia cittadinanza di Albrecht e Molise che è una cosa veramente veramente importante per la comunità e per mantenere ancora più vive le radici che forse in qualche maniera si stanno assopendo. E ora parliamo di una transumanza storica, quella della famiglia Berlingeri, da Venafro a Roccamandolfi. 1200 pecore, un viaggio di due giorni fino a raggiungere Monte Miletto dove per l'estate vengono lasciate libere allo Stato Brado. Vediamo le suggestive immagini in questo servizio di Tonino Danese. Un tuffo nel passato, una tradizione millenaria che si rinnova a 1200 pecore, comisane, sarde, mediterranee e non solo hanno attraversato strade e mulattiere per chilometri dai territori di Venafro passando per quelli di Roccaravindola per un breve tratto al di là del confine in Campania a Capriati e Vallelunga per rientrare a Longano in Molise e raggiungere Roccamandolfi e la montagna. Il gregge poi resta lì fino a ottobre allo Stato Brado prima di essere riportato a quote più basse per l'inverno come avviene da generazioni. È la transumanza della famiglia Berlingeri che porta le pecore in altura come faceva Daniele, storico pastore custode della transumanza come si faceva un tempo, scomparso da poco. Dopo due giorni siamo finalmente arrivati, un po' bagnati, stanchi. Abbiamo fatto la prima tappa, poi ce ne sarà un'altra e ci porterà su a Montemiletto a 2000 metri dove passeremo tutta l'estate prima che poi riscendiamo giù un'altra volta. Voglio fare una dedica speciale, colgo l'occasione per ricordare Daniele Berlingeri che purtroppo è venuto a mancare. Daniele era una bella realtà per Roccamandolfi, era il custode di queste montagne. Da Roccamandolfi il greggio viene quindi portato a Montemiletto, quota 2000 metri. L'ilerba è migliore per avere un latte genuino con cui fare i formaggi che caratterizzano la nostra terra. Sei i pastori che hanno guidato per due giorni le pecore attraverso vecchi sentieri e tratturi, torrenti e colline dove la natura è più rigogliosa. Nemmeno la pioggia scrosciante li ha fermati. Di notte a turno hanno badato al greggio gente abituata alla transumanza da sempre. Noi prima quando andavamo a Foggia ho iniziato a fare la transumanza sei anni. Roccamandolfi ma in Bretonia. Tutta la pulle le abbiamo girate da tutta. Il simbiotico rapporto uomo-animale nel rispetto del ciclo della natura senza forzare i tempi. pastori, custodi di ambiente e territorio. La transumanza in fondo ha questo scopo anche oggi. Però mi vai a tagliare una strada che sono sempre passati gli animali e oggi sulla strada non posso passare, quello non posso fare, quello non posso fare e si sta distruggendo tutto. E da Roccamandolfi ci spostiamo a Venafro con la tradizionale processione, i festeggiamenti in onore dei santi martiri Nicandro Marciano e Daria. Vediamo i dettagli nel servizio che ha realizzato per noi Barbara Fino. Sciogliam di lode un cantico o Popol Venafrano. Trattasi dell'inno in onore dei santi martiri Nicandro Marciano e Daria, cantato più volte in coro da migliaia di venafrani a conclusione delle festività patronali. Un canto che ha accompagnato come tradizione vuole e fino a notte fonda la processione conclusiva caratterizzata da numerose fermate all'interno della città. Praticamente sono undici soste, sono undici volte che viene cantato l'inno di San Nicandro che è un inno che fu in qualche modo ricomposto nel 1881 da Domenico Griscuolo ma in effetti probabilmente un poco più antico, di qualche decina di anni più antico. Il corteo processionale è partito dalla Basilica del Santo Patrono, illuminata a festa, appena dopo la tradizionale ammessa, l'asta popolare per portare in spalla i simulacri sacri. La festa di San Nicandro, 1.600 euro giudicata. Una fede immensa che vi porta a fare ogni anno quest'asta. Lo facciamo con dedizione, lo facciamo con volontà e lo facciamo anche con sacrificio perché portare la salute di San Nicandro per l'intero tratto è un po' pesante. Una tradizione centenaria che va, porta davanti, che se ne dica. Come tutti gli anni siamo qua con il solito gruppo, sempre più forte, sempre più credenti in questa nostra tradizione venafrana. Quattro giorni di festeggiamenti quest'anno grazie al Comitato Festa, caratterizzati da tantissima partecipazione popolare a ribadire la storica vicinanza dell'intera città, all'esempio di Fede, De Santini, Candro, Marciano e Daria. Sono 58 anni che la faccio. La prendo e la porto dove si riporta. È un appuntamento veramente importante per la comunità. È una grande festa per i venafrani. Fra Nazario Vasciarelli, dopo dieci anni, lascerà Isernia e la parrocchia del Sacro Cuore per essere trasferito a settembre in un'altra sede. Il padre francescano è stato amato dall'intera popolazione perché ha saputo coinvolgere tutte le generazioni nelle attività parrocchiali e nella vita sociale della città. I tanti fedeli presenti in chiesa durante l'annuncio tra lacrime e commozione gli hanno tributato un lungo applauso. Grazie per come mi avete accolto e per come mi siete stati vicini in questi anni, ha detto Fra Nazario. Vi saluto come fa Papa Francesco. Pregate per me perché io lo farò per voi. E ora andiamo a Bagnoli del Trigno per la quindicesima edizione del Plantatour. Una intera giornata alla scoperta delle piante officinali, ma anche delle bellezze, del borgo e di sapori antichi. Sentiamo Giuseppe Carriera. Una formula consolidata che si rinnova, storia e natura che si incontrano, antichi mestieri, racconti e leggende che prendono corpo. A Bagnoli del Trigno si è ripetuta la magia del Plantatour. Natura, natura e storia, anche perché la storia fa la natura e la natura determina la storia. Quindi è un binomio inscindibile. E quindi nel nostro piccolo borgo non mancano le cose belle, gli scorci interessanti e appunto pezzi di storia. Il Plantatour di quest'anno è servito anche da prologo a frammenti d'antico. Quest'anno torna. E allora, parlando di storia, abbiamo invitato Crociate a Trinitari di Campopasso, la Mantigliana, il gruppo di Colletorto. E' mancato purtroppo all'ultimo momento quello di Guglionesi, che sono le massime espressioni a livello regionale di questo tipo di storia, di questo tipo di cultura. Le inviteremo anche a frammenti d'antico. Una intera giornata trascorsa tra campi e vicoli, dove incontrare tra gli esperti anche una figura d'altri tempi, lo speziale, impersonato da un vero chimico farmaceutico. Lo speziale era colui che maneggiava le piante medicinali, che erano i farmaci dell'epoca. E farmaci con potere chiaramente curativo, con potere afrodisiaco. Molte sostanze erano cercate per le proprietà afrodisiache, stimolanti l'intelletto. Quindi cercavano delle droghe fondamentalmente in queste piante. E all'occorrenza, speriamo che non siano state mai usate, anche per togliere di mezzo qualcuno, perché molte piante sono anche velenose. Quindi abbiamo fatto questo percorso attraverso la storia, la storia delle spezie, delle piante medicinali. E ho cercato di raccontare come queste spezie hanno condizionato l'economia per tanti secoli, perché sono sempre state sostanze preziose. La musica riecheggia e accompagna la giornata, la scoperta della natura. Spedino Moffa, con chitarra e zampogna, parla delle sue ricerche culturali, riarrangia canti, poesie e detti della tradizione, con due compagni di viaggio di livello, Marco Morino alla batteria e Lorenzo Mastro Giuseppe al basso. È stata una magnifica mattinata. Noi musicisti amiamo il palco, amiamo forse la... Per avere l'occasione di fare, per esempio, un canto dei meditori blues in mezzo a un campo di grano, oppure sotto, per strada, camminando, facendo colazione, insieme a tutti quanti, e raccontando, appunto, la nostra tradizione popolare. È stato comunque molto, molto affascinante. Nella giornata anche la degustazione di specialità a vase di piante ufficinali e di farine e latticini di eccellenza del territorio, in anteprima dell'Amaro del Trigno. Appuntamento dunque a frammenti d'antico, il 18 agosto. E per la festa del pane andiamo a Gildone, dove sono state sfornate e portate in processione dieci quintali di pagnotte, una tradizione che riporta in paese anche chi è andato a vivere altrove e che si fonde con la dedizione a Sant'Antonio di Padova. Quest'anno gemellaggio con Chiauci e c'era per noi Marta Martino. Bambini vestiti da monacelli e bambini con il vestito della prima comunione sfilano insieme alle donne che portano in processione il pane con il giglio. La festa del pane a Gildone si intreccia fortemente alla devozione a Sant'Antonio di Padova e le origini di entrambe le tradizioni popolari, che si sono fuse in un'unica manifestazione, hanno origini molto lontane nel tempo. Il culto viene qui addirittura prima dell'anno 1000, sicuramente c'è stato trasmesso dall'arrivo dei monaci di Sant'Agostino. Mentre per quanto riguarda la festa del pane, diciamo, è molto più recente, si parla degli inizi del 1900, gli anni 30 sostanzialmente. Una festa così sentita che i gildonesi che vivono fuori ritornano apposta per la processione del pane di Sant'Antonio, come testimoniano i tanti argentini che quest'anno sono tornati in paese. La Proloco, che organizza l'evento anno dopo anno in tutti i dettagli, inizia a progettare il cartellone anche un anno prima. La sfilata del pane è nata, diciamo, intorno agli anni 30, grazie a questa levatrice che veniva da Padova e quindi era molto devota a questo santo e all'inizio non era come adesso, però comunque il significato era quello. In pratica chi aveva la possibilità donava il grano alla levatrice, la levatrice la trasformava in farina e produceva il pane che poi faceva benedire e devolveva alle persone. Un lavoro non da poco che mette alla prova i due forni del paese vista anche la grande quantità di pane che viene portata in processione. In processione siamo arrivati a una sfilata di circa 9-10 quintali di pane portati in testa da queste donne con i cesti e negli anni, diciamo, questa tradizione si è molto evoluta anche vedrete dopo nella processione anche delle ragazze che continuano questa, non solo le persone anziane. Quest'anno una novità, il gemellaggio con Chiauci che ha una tradizione simile. Grazie ad una collaborazione nata con i ragazzi del comitato organizzativo di Gildone. Sì, siamo qui, è la prima secondo me di una lunga serie perché poi vista l'importanza della festa vanno comunque portate avanti e coltivate queste tradizioni. Ed è stata presentata al Circolo Sannitico di Campobasso la terza edizione del Festival Yanigro 2023 rassegna internazionale di musica da camera in programma Montagano e in altre location della regione dal 1 al 10 luglio. È dedicato il Festival Yanigro al grande violoncellista originario proprio di Montagano, Antonio Yanigro appunto e l'evento rientra nel cartellone di Turismo e Cultura. Ce ne parla Tonino Danese. 8 appuntamenti musicali di altissimo livello dall'1 al 10 luglio 4 le location Santa Maria di Faifoli e il Belvedere di Montagano il Teatro Romano di Sepino e il Teatro Savoia di Campobasso è stato presentato al Circolo Sannitico del Capoluogo il festival che porta il nome di Antonio Yanigro originario di Montagano tra i più grandi violoncellisti al mondo fondatore di uno stile musicale e maestro di giganti della scena mondiale tra i quali Antonio Maneses oggi presidente del Comitato Artistico del Festival organizzato da Molise e Musica presieduto da Paolo Girardelli collegato da remoto direttore del Comitato Artistico Amedeo Cicchese. Ci saranno anche aggiunte come appunto il maestro Natali Klein, i solisti di Zagabria Oliver Herbert, il ragazzo di 24 anni americano straordinario che ha incomodato d'uso il violoncello del maestro Antonio Yanigro e lui vivrà con noi a Montagano per tutto il festival parteciperà a questo workshop di musica da camera in collaborazione con l'Accademia Stauffer di Cremona una delle più importanti accademie al mondo per quanto riguarda gli strumenti ad arco ci sarà il maestro Campanella che da molisano acquisito avrà un concerto insieme al maestro Meneses in duo Oltre ai concerti da camera saranno dispessore gratuite le masterclass nel nome di Antonio Yanigro che grande importanza diede all'insegnamento della musica che saranno tenute da me e da Paolo Bonomini che formiamo insieme il duo Yanigro e dal maestro Meneses e dal maestro Natali Klein Montagano diventerà luogo d'incontro di musicisti internazionali e giovani come ha spiegato il sindaco Giuseppe Tullo il comune si è impegnato nell'organizzazione anche di questa edizione la terza per riportare a casa l'eredità spirituale di Yanigro Cerchiamo nel ricordo in memoria di un montaganese illustre di creare un evento che piano piano si possa ritagliare un ruolo importante da protagonista nel panorama degli eventi culturali della regione molise e non solo questo per fare di Montagano almeno per qualche giorno il centro della musica e della cultura regionale Presente in conferenza stampa anche la nipote di Antonio Yanigro Angio, la sceneggiatrice che ha realizzato un progetto che riguarda il grande violoncellista molisano Ho creato un soggetto di animazione cioè un violoncello di Antonio che partendo dall'America dove è ospitato a casa del figlio arriva a Montagano viene invaso dai rumori e dai suoni e cede di una Montagano degli anni 30 a questo punto crea un nuovo pezzo Siamo in chiusura ma c'è prima una notizia per i nostri amici a quattro zampe perché alcuni telespettatori ci segnalano la presenza di un cane lo dovreste vedere nella foto, eccolo qui che si aggira nella zona del cinema maestoso a Campobasso sembra molto affamato e sembra proprio un cane di proprietà un cane smarrito chi avesse informazioni utili a rintracciarlo può come sempre contattare la nostra redazione era l'ultima notizia termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale io vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise Buonanotte